E c'è chi pensa invece di vincere un'auto in questa maniera, guardate cosa si sono inventati questi intrepidi signori Stare in piedi 35 ore, ecco il momento di inizio, con una mano appoggiata alla carrozzeria dell'automobile presso uno dei padiglioni della Fiera di Padova, il Via Stamane a Mani in Auto si chiama così la maratona indetta che vede partecipare ben 10 concorrenti selezionati da tutta Italia i coraggiosi maratoneti dovranno armarsi di tanta pazienza nelle prossime ore sono concesse solo 8 pause da 10 minuti, domani pomeriggio verrà decretato il vincitore il rischio è che se più di uno arriverà allo scadere della giornata e mezza di gara verrà fatto un sorteggio, allora la forza di volontà e di resistenza sarà servita a ben poco